laudentur jesus et maria mici carissimi bentornati a un nuovo incontro sui libri sapienziali siamo arrivati come sappiamo nella puntata precedente all'ultimo libro del ciclo di queste catechesi che è il libro del siracide abbiamo cominciato a gustarne la bellezza dei brani in particolare il leggendario capitolo secondo se ti presenti per servire il signore preparati alla tentazione questa sera come vediamo chi sta seguendo la diretta su telegram dalla slide sovrapposta alla mia immagine e ci sono da da vedere diverse altre cose capitolo molto molto importante dei doveri dei figli verso i genitori seguito poi da alcune considerazioni molto belle sull'umiltà sull'orgoglio e poi sulle virtute dell'emosina della carità e infine ultima slide considerazione sulla ricchezza sulla presunzione sull'amicizia che contiene dei passaggi molto belli e poi sulle donne poi ci sono delle sezioni sparse sull'educazione dei figli con delle massime molto utili e molto importanti evidentemente siracide come sappiamo a 51 capitoli questa è una raccolta come sempre esemplificativa e di introduzione e di invito all'ulteriore lettura e non esaustiva però anche di materiale che si presta anche diciamo così a un chiamiamolo commento catechetico bene detto questo io sposterei subito l'attenzione sulla pagina esatto biblica e andiamo a vedere il capitolo terzo 1 16 cioè i doveri verso i genitori seguono la lettura la traduzione del 74 poi eventualmente faremo il caso riferimento a qualche passaggio della vulgata e della o della traduzione del 2008 quello lo fosse un pochino più come a volte accade fedele al senso letterale vedete che ricordo che come ho detto l'oltre scorsa che il testo ebraico della studgartensia che sarebbe la colonna di sinistra che vedete vuota manca perché il siracide non ha testo ebraico corrispondente figli ascoltatemi sono vostro padre agite in modo da essere salvati il signore vuole che il padre sia onorato dai figli ha stabilito il diritto della madre sulla prole chi onora il padre spia i peccati chi liberisce la madre è come chi accumula i tesori chi onora il padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera chi liberisce il padre vivrà a lungo chi obbedisce al signore da consolazione alla madre chi teme il signore rispetta il padre serve come padroni genitori onora tuo padre a fatti e a parole perché scenda su di te la sua benedizione la benedizione del padre consolida le case dei figli la maledizione della madre ne scalza le fondamenta non bantarti del disonore di tuo padre perché il disonore del padre non è gloria per te la gloria di un uomo dipende dall'onore del padre vergogna per i figli è una madre nel disonore figlio soccorri tuo padre durante nella vecchiaia non contristarlo durante la sua vita anche se perdesse il senno compatisci non disprezzarlo mentre se nel pieno del nel piano vigore poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata ti sarà computata sconto dei peccati nel giorno della tua ribolazione dio si ricorderà di te come fa il calore sulla brina si scioglieranno i tuoi peccati chi abbandona il padre è come un bestemmiatore chi insulta la madre è maledetto dal signore ecco vedete come sempre in questi testi il commento è semplicemente proprio un commento non certo una spiegazione dei brani che sono assolutamente chiari ed espliciti scusate che questo è il tempo dell'allergia chiedo scusa chiedo venia ma appunto per rifare qualche piccola considerazione sulla base di quello che abbiamo letto perché la chiarezza penso di questi testi è a quanto evidente no allora cose da da notare uno che onora il padre e spia i peccati e dobbiamo ricordarlo ma una cosa credo ancora più importante è il versetto 5 che onora il padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaurito nel gioco della sua preghiera questo è un'applicazione diciamo così al quarto comandamento di un proverbio un po popolare mi ricordo che mia mamma non lo diceva sempre che quello che si fa si ritrova come tu tratti tuo padre oggi così domani tuo figlio tratterà te frasi di altro di altri tempi le definirebbe qualcuno ma emblematiche significative no chi teme il signore rispetta il padre e serve come padroni i genitori addirittura quasi dominis serviet inisse qui se genera vero dice il testo latino abbastanza inequivocabile no ancora questo è proprio una come dire una glossa che prolunga la versione originaria del quarto comandamento perché all'osservanza del quarto comandamento se si legge il testo proprio del decalo che è legata alla benedizione di dio onoro tuo padre a fatti e a parole perché scenda su di te la sua benedizione ecco quando si avesse dovesse avere genitori disonorevoli numero uno non bisogna assolutamente vantarsi di eventuali disonori ma al tempo stesso non bisogna disprezzarli ma compatirli e pregare per loro la pietà verso il padre non sarà dimenticati sarà scomputata a sconto dei peccati no e poi la sentenza con cui il testo chiude che abbandona il padre è come un bestemmiatore che insulta la madre è maledetto dal signore ecco subito dopo si parte con le considerazioni sulla modestia e sull'orgoglio anzitutto figlio nella tua attività si modesto sarai amato dall'uomo gradito a dio ecco e qui c'è una sentenza che veramente questa è da incorniciare quanto più sei grande tanto più umiliati così troverai grazia davanti al signore perché grande è la potenza del signore e dagli umili egli è glorificato questo figlio dei miei cari ecco è veramente da ricordarsela il signore proprio detesta chiunque si innalzi detesta la vana gloria la presunzione perché per quanto tu possa essere grande questo vale soprattutto per coloro che si pensano di essere padroni del mondo i grandi e potenti della terra dinanzi a dio tu sei meno che nulla sempre la grandezza sotto tutti i punti di vista può essere la grandezza di potere può essere la grandezza di soldi può essere la grandezza di cultura guardate quanta gente che si pavoneggia perché c'ha due lauree tre lauree quattro lauree a parte il fatto che nei confronti dello scibile sei sempre nulla oppure se c'è quattro lauree ma vogliamo poi metterti in paragone con con la scienza di dio o quante cose sarà altissimo ecco dagli umili lui è sempre glorificato sappiamo bene chi è la creatura più grande che esiste che è Maria Santissima e sappiamo bene cosa ha detto nel Magnificat respect sit umilitate mancille sue ha guardato l'umiltà della sua serva e lei stessa ha cantato nel Magnificat arrovesciato i potenti dei troni ha innalzato gli umili ancora altra massima che vale soprattutto per chi fa le domande in diretta perdonatemi o anche per chi mi scrive le mail perdonatemi la battuta interessata non cercare le cose troppo difficili per te non indagare le cose per te troppo grandi va da quello che ti è stato comandato poiché tu non devi occuparti delle cose misteriose non sforzarti in ciò che trascende le tue capacità più di quanto comprendono l'intelligenza umana molti ha fatto smarrire la loro presunzione una misera illusione ha forviato i loro pensieri allora questo è importantissimo figli miei questi passaggi sono veramente importanti vedete come dice non cercare le cose troppo difficili non indagare le cose per te troppo grandi va da quello che ti è stato comandato allora ci sono molte volte tentazioni di andare a indagare su misteri profondi su grandi cose o su cose occulte o sul futuro o su cose di curiosità il signore non gradisce queste cose va da quello che ti è stato comandato cioè in questa vita qual è la nostra occupazione e tra virgolette preoccupazione principale la santificazione perché tanto tutte quante le cose occulte misteriose un giorno ci saranno rivelate a go go se andiamo in paradiso cioè il signore non vuole cioè le cose necessarie e importanti lui ce le fa conoscere ce le ha rivelate pubblicamente nella rivelazione e se sono utili per noi ce le fa ulteriormente poi apprendere attraverso le fonti decide in privato ma è diverso cioè capite l'ho accennato anche durante l'omenia di oggi un conto è che il signore ti manda una grazia gratuitamente e tu te la prendi no che ne so facciamo un esempio nasce la Natuzza Evolo del momento e la Natuzza Evolo del momento quella aveva delle dei doni dati da Dio e che metteva a disposizione del prossimo riguardanti cose che tutti vorremmo sapere vorremmo sapere se il nostro se papà o mamma che sono morti sono se sono salvati o se stanno all'inferno ok allora se il signore te lo manda un dono del genere te lo prendi ma se Natuzza è morta adesso il dono non c'è più non è che uno deve cominciare a andare a ricorrere a chissà quale mezzo per andare ad acquisire una cognizione che il signore ordinariamente ci rende occulta noi non lo sappiamo che fieno hanno fatto i nostri genitori neanche un amico una persona cara speriamo che sia salvo ma non lo possiamo sapere con certezza allora altra cosa è quando il signore ti dà un dono altra cosa è quando tu lo pretendi e te lo vai a cercare e lo vuoi avere per forza la seconda via non è mai da percorrere la prima quando il signore te la dà te la prendi se no fai un passo uno step indietro sono considerazioni importanti eh io tante volte sono trovato a dover dire guarda figlio mio cioè questa è una domanda di curiosità che poi dispiace pure dirlo perché uno non vorrebbe moltiplicare nessuno qui c'è un'altra sentenza molto famosa nel versetto 25 è molto usata negli scritti di maestri di spirito e santi non cuore ostinato alla fine che tranne il male ecco qua chi ama il pericolo in esso si perderà e qui il pericolo è in senso ampio diciamo sulla base di questo versetto si comprende come nelle cose chiamiamole tra virgolette spirituali è sempre meglio percorrere le vie sicure ok sicure quali sono le vie sicure sono le vie avallate dall'autorità della chiesa dagli insegnamenti costanti dei santi dei dottori faccio subito un esempio no dai credito esempi attuali al mistico X o alla mistica Y all'apparizione K o all'apparizione Z non ancora su cui ancora non è stato fatto un adeguato discernimento questa cosa è una cosa di per sé pericolosa perché perché se è vero bene ma se fosse falso come dire imbarcarti in una cosa di questo genere non sarà senza conseguenze allora se uno percorre una via sicura non c'è pericolo che cadrà in questi rischi quindi fidati quando si tratta di queste cose di ciò che è stato già ritenuto certo è più sicuro perché se ti imbarchi in strade pericolose potresti farti male vale la pena punto interrogativo perché se uno imbrocca una strada erronea su questi argomenti se fa male non può fare la pena poi un cuore ostinato sarà oppresso da affanni il peccatore aggiungerà peccato a peccato un cuore ostinato e il peccatore impenitente sono manifestazioni della superbia e il primo castigo del peccato sta nel peccato stesso oppresso da affanni ancora vedete la sventura non guarisce il superbo perché la pianta del male è radicata in lui che cosa sta sta dicendo una cosa molto triste la traduzione della cei 2008 come dire aggrava per la misera condizione del superbo non c'è rimedio perché è radicata la pianta del male capite perché la superbia ci mette a rischio di dannazione la sventura non guarisce il superbo vuol dire quando una persona comincia a radicarsi in questo vizio profondo se il signore come spesso fa gli manda qualche sventura qualche castigo come estrema razio per farlo tornare sui suoi passi niente anziché tornare sui suoi passi si consolida ancora di più su quelli sbagliati e va incontro alla fine poi chiude una mente saggia medita le parabole un orecchio attento è quanto desidera il saggio l'importanza dell'ascolto e dell'applicare la nostra mente la nostra intelligenza alle cose di Dio dal versetto 29 come accennato nella slide introduttiva comincia la sezione dedicata all'elemosina e alla carità allora l'acqua spegne un fuoco acceso l'elemosina espia i peccati San Pietro fa ecco nel Nuovo Testamento a questa sentenza ampliandola la carità copre una moltitudine di peccati c'è tanta gente che dice no fate tante cioè porre di farmi tanto purgatorio cominciamo a fare l'elemosina l'elemosina è un'opera penitenziare sapete che le opere penitenziare stabilite dalla tradizione della chiesa sulla base evidentemente degli insegnamenti evangelici di nostro signore sono tre la preghiera il digiuno e l'elemosina sono tutte e tre impegnative ma l'elemosina come sappiamo è sempre un po' delicata perché quando si fanno elargizioni di denaro è sempre cosa che costa specialmente poi quando le elargizioni sono di una certa proporzione cioè non semplicemente un euro che tu dai a quel povero disgraziato che sta fermo a un semaforo e che si capisce che uno che sta lì per fame e non perché deve andare sobriagare e quindi ti fai pulire il vetro e glielo dai l'euro quindi ok o due meglio magari o anche cinque se capisci che c'ha bisogno ma queste sono piccole cose sono sciocchezze le lemosine e lemosine sono quando si comincia a praticare questa cosa in maniera o costante o consistente ovviamente sempre in relazione a come dire alle proprie risorse no perché la parabola della vedova importuna insegna che per un poveretto due spiccioli cioè manco un euro sono l'equivalente che ne sono dei duemila euro per un picco per una persona che sta bene ecco quindi è tutto proporzionato però se uno ha voglia di risparmiarsi tanto purgatorio tenga presente questa sentenza l'elemosina espia i peccati chi ricambia il bene provvede all'avvenire al momento della sua caduta troverà un sostegno ecco il ricambio del bene la gratitudine no il bene ricevuto va ricambiato questa è una cosa brutta e anche molto cafonesca non lo possiamo soltanto ricevere quando ci vengono fatti dei benefici noi dobbiamo ricambiare a livello proprio oggettivo proprio di 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 giustizia e di necessità perché altrimenti non si diventa beneficiati ma si diventa un po' scroccone e questo non va bene figlio non rifiutare il sostentamento al povero non essere insensibile allo sguardo dei bisognosi non rattristare un affamato non esasperare un'omogenea difficoltà non turbare un cuore esasperato non negare un dono al bisognoso non respingere la supplica di un povero non distogliere lo sguardo dall'indigente da chi ti chiede non distogliere lo sguardo non offrire a nessuno l'occasione di maledirti perché se uno ti maledice con amarezza il suo creatore sa dire la sua preghiera è terribile questa cosa terribile quindi ovviamente hanno sempre fatto è sempre come dire tensione è chiesto di fare un discernimento per quanto possibile sulla situazione di povertà reale sapete che in giro e non soltanto nel giro reale ma purtroppo a volte succede anche con altre cose ci sono tante situazioni di su cui fare discernimento cioè non si può per esempio dare soldi a un ragazzotto con gli occhi lucidi ventenne che gira per la stazione a chiedere come da te ovo padre dammi qualche spiccio non è che si può dire ma il signor ha detto da chiunque ti chiede ma adesso glielo do no perché è evidentissimo che se qualcuno ti chiede dammi qualche spiccio in quella situazione che ci devi fare devi andare presumibilmente a comprare una dose cioè non è questo un giudizio temerario è evidente dalle circostanze no ci sono delle classi di persone che fanno dell'accattonaggio una professione cioè i sacerdoti su questo sono proprio smaliziati sono proprio ce le riconoscono lontano un miglio no quindi il vero povero ricordate sempre una persona che eppure avendo bisogno fino a quando proprio non lo sta morendo non chiede accetta quello che gli viene dato ma non chiede quando si comincia a diventare accattoni di professioni bisogna fare un discernimento la carità va fatta ecco ma è cosa lodevole preoccuparsi che le decisioni che vengono date anche se comunque il signore le ricompensa sempre quindi anche se vengono date da chi c'è ingannato vadano a corrispondere a situazioni di reale necessità guardate quando c'è qualche dubbio se volete un consiglio specialmente di gente che non conoscete più che mettere i soldi in mano perché sapete con i soldi uno fa qualunque cosa si può tranquillamente comprare qualche 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 cosa da mangiare i barroci per esempio quando aiutano qualcuno qualche famiglia bisognosa questi sono prassi diciamo così così come c'è l'ambiente consolidati o attraverso le caritas danno i cosiddetti pacchi viveri oppure quando il parroco discerne qualcosa dice portami la bolletta e te la pago io perché mettere i soldi in mano specialmente oggi è sempre un'operazione che richiede una grande fiducia nel destinatario io se vedo una persona per esempio che fuma mi dispiace ma le ramosina non gliela faccio di soldi se c'è tempo andiamo al bar ti fai una colazione oppure se c'è la possibilità se tu hai bisogno ti vado a fare la spesa ma i soldi in mano no perché te c'è da comprare sigarette io non mi rendo complice di un fatto del genere no ecco quindi dico queste cose perché poi c'è sempre il problema del discernimento oggettivo no fatti amare dalla comunità davanti a un grande abbassa il capo porgi l'orecchio al povero e rispondigli al saluto con affabilità vedete questa è un'altra cosa molto molto bella molto molto importante no ecco è bene che la la carità e l'enemosina sia sempre condita dalla gentilezza e da un sorriso no ecco che forse vale più di quello che concretamente si è dato sarà poi l'oppreso dal potere dell'oppressore a non essere pusillanimo quando giudichi sii come un padre per gli orfani come un marito per la loro madre sarai come un figlio dell'altissimo ed egli ti amerà più di tua madre e degli orfani nella sacra scrittura e non solo sono oggetto di protezione divina ecco perché una persona che si ritrova senza genitori è una delle condizioni gli orfani le vedo sono i prediletti dell'altissimo perché anticamente se una persona rimaneva vedova non era come oggi insomma che c'era donna emancipata che lavora che provveda se stessa stava in difficoltà così come è evidente se una persona rimane orfana quando ancora piccolina sta in estrema difficoltà no? Allora andiamo avanti nel capitolo quinto dal versetto uno ecco c'è la sezione dedicata alla ricchezza e alla presunzione allora non confidare nelle tue ricchezze e non dire questo mi basta le ricchezze i beni sono benefici di miei cari ok se il signore ridona come vedremo nostro compito è semplicemente amministrarle in maniera conforme ai suoi voleri ma mai confidare in esse perché uno dei problemi per cui la ricchezza è stigmatizzata da Gesù come cosa pericolosa è proprio questo cioè il fatto che in essa si confidi cioè che nella ricchezza si ripone la propria sicurezza e quindi in questo caso quindi quando si confida nella ricchezza cioè sto tranquillo perché c'ho soldi qualunque cosa mi succede posso temperare con i soldi che ho capite subito che i soldi sostituiscono il posto che deve avere Dio solo noi confidiamo in Dio nella sua bontà e nella sua provvidenza in tutte le cose della nostra esistenza non nei soldi né beni materiali questa è una delle cose che non si deve fare quando si dispone di ricchezze faccio un piccolo jump al versetto 4 non dire ho peccato che cosa mi è successo perché il Signore è paziente ho peccato che è successo niente quindi vuol dire che non è che se uno peccava incontra tanti guai non ti è successo niente non perché il peccato non è niente ma perché il Signore è paziente e poi due versetti che penso che bisognerebbe farli leggere parecchio in giro oggi ma proprio parecchio sentite questa è parola di Dio quindi quando sentite qualche cosa che va contro questi due versetti per favore come dice il buon padre Pico prendete le due dita indice della mano destra e sinistra le portate nel lobo dell'orecchio e vi attappate le orecchie ok 1 non essere troppo sicuro del perdono tanto da aggiungere peccato a peccato questa è la classica come dire fatti specie del recidivo non si può passare di peccato in peccato di confessione in confessione commettendo sempre lo stesso peccato non essere troppo sicuro del perdono chi te l'ha detto che Dio ti ha perdonato sì ma sono stato assolto sì certo che sei stato assolto ma voi credete che dietro ogni assoluzione ci sia il perdono di Dio vediamo un po' non è affatto così perché è chiaro che il sacerdote che non sia un padre Pio non può conoscere con certezza quello che quello che il penitenente ha combinato cioè se li ha detti tutti e soprattutto se li ha detti essendone pentito il confessore ordinariamente fa una valutazione esterna nel senso che se non di consta in maniera oggettiva che c'è da dubitare o dell'intervità della confessione o del prendimento dà la soluzione se queste cose non ci sono racconto sempre quello che in diretta a un tizio mi fece una volta che stava facendo una trasmissione solo del Buon Consiglio che diceva che lui usava la contraccezione e poi faceva tutto quanto il circondario si confessava tutte le settimane e faceva il giro davanti alle parrocchie della sua grande città dove abitava diciamo se può fare padre dico vedi tu stai facendo veramente una irrisione in questo caso no perché il confessore che non è prudente non lo sa perché se una persona ti confessa la contraccezione tu gli devi chiedere ma questo è un fatto sporadico o tu questo lo fai regolarmente hai già confessato questa cosa quindi l'hai già detta o è la prima volta che la dici ma se trovi un confessore provveduto quello lo sente e il piede e il piede ti assolve ma non c'è nessuna soluzione qui poi non dire la sua misericordia è grande mi perdonerai molti peccati non dire non dire meno che mai devi dire che la sua misericordia è un diritto si può dire dinanzi a questa frase che la misericordia di Dio è un diritto noi abbiamo diritto di essere perdonati io sono in attesa di trovare un passo ovviamente della saga scrittura che affermi questa cosa non soltanto non c'è nessun diritto ma non dobbiamo neanche presumere della divina misericordia perché presso di lui ci sono misericordia e ira e il suo sdegno si riverserà sui peccatori questa è la parola di Dio qualcuno se la prende con Don Leonardo che dice ah tu parli sempre della giustizia qua e se ti sento mi viene l'angoscia che vuoi da me cioè io che ci posso fare se ti ho scritto sta roba qui tenete per esempio sempre le grandi massime dei grandi santi San Giovanni della Croce vuoi sapere se una cosa viene da Dio oppure no dinanzi ad una verità chiedi ti piacerebbe che fosse così o che fosse il contrario ti piacerebbe che Dio fosse solo misericordioso che ti perdona sempre che senza nessun problema bello no? invece comincia a pensare che oltre che misericordioso è anche giusto insomma comincia a sentire un po' un po' con la sedia che comincia a essere una simil sedia elettrica no? allora se ti senti così è più sicura la seconda dobbiamo sempre avere questo parametro di giusto andate a leggere San Giovanni della Croce le cautele un'operetta che non conosce quasi nessuno è quello che dice quindi ancora non aspettare a convertirti al Signore e non rimandare di giorno in giorno perché improvvisa scoprirà l'ira del Signore e al tempo del castigo sarà nientato senti in poche roba che significa questo qui? stai commettendo ancora qualche peccato che devi lasciare e vedi di farlo subito smetterò di fumare ah sì lo so che devo smettere di fumare adesso ci penserò ah lo so che devo smettere di fai peccati impuri però adesso piano piano poi ci penserò ascoltate oggi la sua voce non indurite il cuore l'invitatore che tutte le sante mattine per chi riesce dal breviario viene detto perché poi c'è il giorno di massa di Meribba e il nostro Signore ricordate cosa è successo dopo la massa di Meribba ho giurato nel mio sdegno questi non entreranno nel luogo del mio riposo e non ci sono entrati e non c'è entrato manco Mosè nella terra promessa Reo che ha battuto due volte vi ricordate l'asta sulla roccia due volte una piccola esitazione un piccolo dubbio interviene subito il Signore per questa cosa che hai fatto poiché tu hai dubitato di me e non hai dato quello al mio nome tu non condurrai questo popolo nella terra dove scuola la termiera a Mosè capite cioè noi siamo più grandi forse di Mosè sta roba non è più vera improvvisa divampa la sua ira lo dice anche il Salmo 2 beato che in lui che non si sdegni e voi perdiate la via è riuscito a memoria Salmo 2 devo andare a controllare la parte finale che non si sdegni e voi perdiate la via improvvisa divampa la sua ira beato che in lui si rifugia e quindi che vogliamo fare? come stanno le cose? non confidare in ricchezze ingiuste perché non ti gioveranno nel giorno della sventura le ricchezze ingiuste noi possiamo avere ricchezze sì ad alcune condizioni dovevano essere ricchezze giuste cioè hai ereditato dai tuoi genitori e quella è una ricchezza giusta frutto di onesto lavoro è quella è una ricchezza giusta donazioni ricevute è quella è una ricchezza giusta rendite che ne so da beni legittimamente posseduti e quella è una ricchezza giusta frodi assicurative disonestà nel lavoro alterazione dei prezzi o cose di questo genere qui lavoro di domenica attenzione al lavoro di domenica è una ricchezza ingiusta quella lì come dicevano i nostri nonni lavoro in giorno di festa esce dalla finestra va bene allora andiamo a vedere la sezione dedicata all'amicizia molto bella capitolo 6 versetti 5 e 17 una bocca amabile moltiplica gli amici un linguaggio gentile attira i saluti leggo tutto qui perché è stupendo questa sezione siano in molti coloro che vivono in pace con te ma i tuoi consiglieri uno su mille se intendi farti un amico mettilo alla prova non fidarti subito di lui c'è infatti chi è amico quando gli fa comodo ma non resiste nel giorno della sventura ma c'è anche l'amico che si cambia il nemico ve l'assicuro e scoprirà tutti sono i vostri litigi c'è l'amico compagno a tavola ma non resiste nel giorno della sventura nella tua fortuna sarà come un altro te stesso e parlerà liberamente con i tuoi familiari ma se sarai umiliato si ergerà contro di te e dalla tua presenza si nasconderà sentite questa massima tieniti lontano tieniti lontano dai tuoi amici ma dai tuoi amici guardati ecco e poi un amico fedele è una protezione potente chi lo trova trova un tesoro vedete da dove viene il proverbio chi trova un amico trova un tesoro si racide 6 14 proprio testuale per un amico fedele non c'è prezzo non c'è peso per il suo valore un amico fedele è un balsamo di vita lo troveranno quanti temono il signore ecco qui chi teme il signore è costante nella sua amicizia attenzione perché come uno è così sarà il suo amico anche qui c'è un altro proverbio che viene dal che si dice in latino che è similes come uno è così sarà il suo amico si potrebbe dire dimmi gli amici che hai e ti dirò chi sei chi sono i tuoi amici ora avete visto che la la sapienza dei libri no molta gente scambia con gli amici le persone della comitiva penso soprattutto ai giovani no ce l'ho avuto pure io quelli con cui il sabato sera esci a mangiare la pizza ma quelli non sono amici si chiamano amici ma quelli sono l'amico compagno a tavolo quelli non contano nulla non contano cioè fino a quando si stanno a mangiare da bere da divertire si stanno subito vicino parlano anche con i tuoi familiari no siamo stati tutti quanti i giorni vengano a casa tua ma che sono amici quelli lì o persone con cui parlare assolutamente no ecco è una grazia avere un amico o un'amica vera chiediamola al signore e chiediamoci anche se abbiamo il dono di qualche di qualche amico non dubitiamo che se ancora non c'è lo troveranno quanti temono il signore per cui potrebbe anche pensare se non c'è ancora un amico come Dio comanda può darsi che temo ancora poco il signore questo c'è scritto qui ecco ecco io aprirei adesso abbiamo un pochino di tempo ancora spero sì sì il tema dell'educazione perché anche questo è un tema molto allora abbiamo tre sezioni 7 23 25 22 35 e 31 13 andiamo con ordine 7 23 25 ai figli educali e sottomettili fin dalla giovinezza ai figli vigila sui loro corpi e non mostrare loro un volto troppo indulgente troppo indulgente a caso una figlia e avrei compiuto un grande affare ma sposala a un uomo assennato allora a parte il versetto 25 che va evidentemente applicato in un certo modo adesso vedremo come però i figli vanno educati interessante la traduzione del 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 cè 2008 più fedele al testo che dice educali e fa loro piegare il collo fin dalla giovinezza cioè che io tratto il figlio come se fosse un amico questa era era una moda degli anni 70 80 questa è una cretinata grossa quanto una casa il figlio va educato certamente va educato dentro un contesto di amore dentro un contesto di dispotismo bieco o di autoritarismo o di terrore ma il figlio va educato e il figlio deve stare sottomesso non sta a livello del genitore vedete sulle figlie vigila sui loro corpi come vanno in giro vestite le ragazzine il signore ne chiede conto ai genitori non avremmo mai assistito a un tale di lagare di monnezzaio in giro e di moda in vereconde se i genitori avessero continuato a fare i genitori io ho sempre detto ringraziamo il Dio che ho fatto il prete perché ci doveva soltanto presentare mia moglie o mia figlia vestita in un certo modo eh mia moglie o mia figlia fa che si presentano a me vestite così poi di che succede perché alcune cose non possono essere tollerate non vanno permesse per nessun motivo il fidanzatino o la fidanzatina cioè un genitore cioè per dare il permesso di uscire con una persona la riconosce la deve c'è un bellissimo film andatela a vedere si chiama Corageus di Alex Kendrick Alex Kendrick è un americano credo che siano avventisti del settimo giorno purtroppo non sono cattolici ma questo ha tirato fuori 4-5 film che sono più bello dell'altro certo si vede che lo sfondo della fede sincera che però quest'uomo ha è protestante si vede ma sono molto belli Corageus tra l'altro Alex Kendrick ha fatto proprio una missione di questa cosa qui nel senso di rilanciare l'importanza della figura del padre e di come importante che il padre si prenda la sua responsabilità a un certo punto si vede una scena dove c'è uno dei protagonisti che la figlia cominciava a frequentare il suo ragazzetto e gli dice benissimo lo porti a casa sta al pranzo con noi lo conosciamo viene da il permesso di uscire con lui e poi si vede nel film che questo si era andato a mettere nei guai si era andato a infilare dentro una gang le classiche gang di scalmanati statunitensi e che se il padre non fosse intervenuto la figlia avrebbe passato dei guai questo si può fare non solo che si può fare questo per quanto mi riguarda si deve fare fino a quando è possibile farlo se il figlio comincia a essere 25-30 anni diventa un pochino differente ma fino a quando sono adolescenti giovani io capisco che può essere difficile che oggi il contesto anche sociale anche culturale non aiuta queste cose però bisogna farle queste sono le prime sentenze andiamo a vedere facciamo un jump però qui andiamo un attimo qua perché dobbiamo andare sul capitolo 22 facciamo un jump veloce e ci abbiamo i versetti 3-5 oh qui sono i figli maleducati guardate qui vergogna per un padre avere un figlio maleducato e se si tratta di una figlia la sua rovina ora qui non è che ci sta in giro la maleducazione oggi un disastro una figlia prudente sarà un tesoro per il marito attenzione ma quella disonorevole un tesoro per chi l'ha generata la sfacciata disonora il padre e il marito e dall'uno e dall'altra sarà disprezzata è chiaro che qui si parla di sfacciata capiamo bene in un senso ben preciso ecco poi c'è una sezione forse quella più importante che parla del dovere di correggere i figli e che cerca di liberare dagli scrupoli qualche qualche genitore che a volte è un po' scrupoloso o meglio andando dietro a tutte le cretinate che si dicono da 20 anni a stavare da 30 anni a stavare 40 forse sull'educazione c'è le idee un po' confuse vado eh quindi non chiamate il telefono azzurro perché sta scritto nel libro del Siracide chi ama il proprio figlio usa spesso la frusta per gioire di lui alla fine adesso insomma la frusta è la frusta insomma però capiamo il senso no chi corregge il proprio figlio ne trarrà vantaggio e se ne potrà vantare con i suoi conoscenti chi ama essere il proprio figlio renderà geloso il nemico mentre davanti agli amici potrà gioire allora l'esercizio dell'autorità a volte richiede come anche l'autorità civile l'uso degli strumenti come dire di tra virgolette di castigo cioè io non so per quanti per quanti secoli i maestri avevano le bacchette non è che non è che ti flaggellavano come Gesù il venerdì santo no ma una bacchettata sulle mani non è che ti cambia connotato o ti mutila d'accordo non è come dire la cosa da praticare come dire alla garibaldina disinvoltamente o uno sfogo di ira no ma facciamo così abbiamo visto che cosa è successo bandendo tutti quanti questi mezzi come assolutamente da bandire indegni dell'uomo irrispettosi eccetera eccetera chi c'è adesso in giro il tasso di maleducazione che c'è in giro siamo proprio sicuri che questa sia la cosa da fare quando la parola di Dio in termini così forti come dire suggerisce di fare il contrario di questo quindi chi ama il proprio figlio cioè perché un figlio va educato e per educarlo non sempre basta anzi per favore fai così fai così e se questo ti dice no io racconto sempre una cosa lo racconto perché sono cose pubbliche a me è successo recentemente qui con ragazzini durante le azioni che ti dico fai una cosa questo chi appena ti dice no a me un freschetto dei dieci anni io sono 53 e sono sacerdote no allora io chiaramente che gli posso fa nulla chiamo però il padre e la madre e dico senti amica questo oggi mi ha detto no se pensa che viene qui a sfidarmi in questo modo davanti a tutti ha sbagliato ambiente questo è quello che si può fare allora se a me io non oso immaginare se il sacerdote che faceva catechismo avesse chiamato mia madre o anche mio padre perché mio padre non aveva queste cose ma se gli avesse detto una cosa del genere non lo so che cosa avrebbe fatto quale quale quarto d'ora avrei passato è chiaro che l'educazione è non crocchiare versetto 3 chi ha maestra chi ha il proprio figlio renderà geloso il nemico quindi si tratta di fare da maestri ai figli anzitutto mentre davanti agli amici potrà gioire muore il padre è come se non morisse perché lascia un suo simile dopo di sé durante la vita gli gioia nel contemplarlo in punto di morte e non prova dolore di fronte ai nemici lascia un mendicatore per gli amici uno che sta ricoprezzando attenzione che accarezza un figlio ne fascerà poi le ferite a ogni grido il suo cuore sarà sconvolto capite che significa chi accarezza un figlio ne fascerà poi le ferite questa è sapienza il cuore tenero il cuore tenero purtroppo spesso produce danni io racconto sempre nella mia esperienza sacerdotale ci sono state vite distrutte e che poi sono andate a fare le piazzate ai genitori dicendo è colpa tua che mi sei distrutta la vita perché se quando io ti rispondevo in un certo modo quando facevo certe cose tu mi avessi fatto una faccia tanta dei schiaffi io tante cose non le avrei fatte certamente è un atteggiamento non proprio urbano ma neanche molto lontano dal vero però oppure racconto sempre una cosa che ci raccontava posso dirlo perché Monsignor Petrocchi era una sua esperienza da giovane parro con una ragazzina adesso la faccio brese se no non finiscono la catechesi che una volta il padre gli aveva detto mi raccomando a mezzanotte a casa torna a casa alle 4 come un ninja come c'era una canzoncina degli 8-8-3 come un ninja fai le scale a un certo punto non riesce a riuscire in camera da letto che il padre dice ah uè sei tu che ore so e questa si aspettava che il padre andasse a gonfiare sono le 4 dice ah vabbè mi raccomando non succeda più a letto quella si è alzata all'alba della domenica mattina è andata a suonare al giovane parro del suo paesino in lacrime dice che hai fatto figlia mia stanotte ho scoperto che mio padre non mi vuole bene testuali parole perché non l'ha gonfiata non è che era contenta di essere gonfiata ma se mio padre mi vuole bene se mi ha detto di tornare a mezzanotte di tornare a 4 mi gonfia mi gonfia non andare all'ospedale capite no sentite la sadienza un cavallo non domato diventa restio io riconosco i cavalli ci sono stato sopra un figlio è lasciato a se stesso diventa sventato quando tu sali sul cavallo perdonatemi se faccio questa digressione devi subito mettere in chiaro una cosa chi comanda perché se il cavallo si accorge che tu non hai polso ti porta dove vuole non lo controlli più non lo controlli la prima cosa appena ci prova io la devo subito va sentita è una bella tirata di morso che gli fai una sgarro alla faccia oppure due belle tacconate alla 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 panza e devi capire chi comanda se no sei morto il figlio deve capire bene chi 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 comanda non può essere lasciato a se stesso un'altra cosa lascia le briglie sul cavallo sei morto 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 ancora coccola il figlio ed egli ti incuterà spavento scherza con lui ti procurerà dispiaceri mi raccomando il grano salis nell'intendere queste cose non è che adesso vuol dire che uno deve mai dare una carezza al figlio capite il se è uno stile ok scherza con lui ti procurerà il figlio non puoi trattare il figlio come un amicone cioè ci deve essere questo clima cioè il figlio deve sentire che c'è un rapporto disparo non da pari a pari quindi le coccole sì te le faccio ma non solo quelle non sempre quelle non quando non te le meriti non ridere con lui per non doverti con lui rattristare che non debba digrignare i denti fino alla fine non concedergli libertà in gioventù tutti siamo stati tutti giovani volevamo la libertà tutti la volevamo no? è una cosa buona io io la libertà che ho avuto io da piccolino non ne ho fatto è impossibile per un ragazzino farne buon uso quasi impossibile non prendere alla leggere i suoi difetti registrare correggere intervenire piegagli il collo in gioventù e battigli le costole finché è fanciullo anche qui attenzione perché poi in testardito non ti disobbedisca e tu ne avvi un profondo dolore capite il senso di questa cosa qui no? sta roba oggi che ci porteranno in galera sapete quanti passi della sagra scrittura oggi sono potenzialmente forieri di guai è chiaro che sono tutte quante espressioni ripeto da prendere con grano salis non ad litteram sine glossa però il come dire il senso il messaggio che danno è importante educa tuo figlio e prenditi cura di lui così non dovrai affrontare la sua insolenza ultimo passaggio che abbiamo concluso così consegniamo questo ciclo alla storia rapidamente è il passaggio sulle donne che è il capitolo 25 vediamo un po' sforiamo di qualche minuto ma concludiamo 25 12 allora qualunque ferita ma non la ferita del cuore qualunque malvagità ma non la malvagità di una donna qualunque sventura ma non la sventura casata dagli avversari qualunque vendetta ma non la vendetta dei nemici preferirei abitare con un leone con un drago piuttosto che abitare con una donna malvagia la malvagità di una donna ne altera l'aspetto ne rende il volto tetro come quello di un orso suo marito siede in mezzo sui vicini ascoltandoli gemi amaramente ogni malizia è nulla di fronte alla malizia di una donna la realtà queste cose sono purtroppo vere possa piombarle addosso la sorte del peccatore come una salita sabbiosa per i piedi di un vecchio tale la donna linguacciuta per un uomo pacifico non soccombere al fascino di una donna per una donna non ardere di passione motivo di sdegno di rimprovero e di grande disprezzo è una donna che mantiene il proprio marito animo abbattuto e volto triste e ferita al cuore è una donna malvagia mani inerti e ginocchia infiacchite tale colei che non rende ferita felice il proprio marito immaginate adesso state leggendo queste cose alla risultante delle donne la promozione delle donne eccetera eccetera dalla donna ha avuto inizio il peccato per causa solo tutti moriamo non dare all'acqua un'uscita né libertà di parlare ad una donna malvagia io preferisco non commentarle queste cose però spero che chi ascolti come dire aguzzi l'intelligenza e confronti di queste cose che si stanno ascoltando con degli esempi ahimè quotidiani irreali che abbiamo di queste cose per esempio libertà di parlare a una donna malvagia se non cammina al centro della tua mano toglila dalla tua presenza beato il marito di una donna virtuosa il numero dei tuoi giorni sarà doppio una brava moglie è la gioia del marito questi trascorreranno gli anni in pace una donna virtuosa è una buona sorte viene assegnata vedete anche qui a chi teme il signore il senso ovviamente globale di questa cosa è questa la donna è un ago cioè se è virtuosa quindi pende dalla parte di maria è una benedizione ma se dio non voglia è viziosa quindi tende dalla parte di eva è un guaio sapete che c'è il proverbio africano che concludono se tu educhi un maschio educhi un individuo se educhi una donna educhi una nazione perché la donna ha questa sorte che nel bene e nel male è lago cioè ci abbiamo avuto eva e ci abbiamo avuto maria io dico sempre alle tanto amate donne scegli tu a chi vuoi assomigliare delle due capito che poi ci stanno eva e ave no proprio il rovesciamento l'una dell'altra e una donna è tesa è una corda tesa Nietzsche diceva che l'uomo è una corda tesa tra la bestia e il superuomo me lo ricordo purtroppo fin troppo bene dico che la donna è una corda tesa tra eva e maria deve scegliere da quale parte stare e verso cosa tendere ovviamente nel libro del Siracide così come negli altri libri sapienziali prendo in presto le parole di San Giovanni e Evangelista ci sarebbero moltissime altre cose da dire moltissime altre cose sono state scritte che non è che non basterebbero tutti i libri del mondo perché sono scritte negli libri sapienziali ma non basterebbero altre centinaia di ore di di catechesi bibliche per dirle tutte quindi le lascio all'attenzione e alla cura vostra sperando che questi piccoli interventi abbiano aiutato un po' a gustare quello che abbiamo trattato e anche ad agevolare una prosecuzione della lettura in privato Dio i benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga l'audentur Iesus et Maria Dio i benedica